Buongiorno al dottor Claudio Sarecino da benessere ipnosi soluzione oggi voglio parlare rispondere a tre quattro persone che mi hanno chiesto tutti la stessa cosa il dolore cronico può essere sconfitto definitivamente dall'ipnosi vera e professionale oppure dall'auto ipnosi di CS vera e professionale ebbene la risposta è sì 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 ho risolto tantissimi casi aiutato tantissime persone che avevano dolori cronici avevano fatto le tag le risonanze magnetiche nulla di nulla di nulla eppure quel dolore alla schiena alla spalla al petto alle mani eccetera rimaneva chiamasi dolore cronico ok ripeto qui non facciamo i miei consigli non fanno né diagnosi né cura né terapia devi sempre chiedere al tuo medico di fiducia a fare tutte le analisi perché l'ipnosi non sostituisce le cure mediche tradizionali ok e poi provare ipnosi vera e professionale presso un professionista dell'ipnosi della tua zona sederti provare e poi capire se fa per te o non fa per te l'ipnosi ti posso garantire che funziona come ha funzionato a Los Angeles in Italia e in tutto il mondo funzionerà anche per te se hai questo dolore cronico e non sai come fare cosa fare le hai provate tutte bene ti rimane l'ipnosi vera e professionale provaci 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 fidati che funziona che scrivimi oppure utilizzo un audio mp3 dices no dolore cronico e tu vedrai veramente la luce perché tutto esce da qui ragazzi e non da qui sono collegati ok visita la mia fanpage su facebook ipnosi audio ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino fai share condividi con amici parenti perché può essere quel qui che gli cambia la vita visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e conclusione delle conclusioni come diceva il buonanima di mio padre lui ti bagna lui ti asciuga che questo lui non l'ho mai capito però può essere anche il tuo subcosciente il tuo pilota automatico il tuo genere della lampada di latino come ti ha fatto venire il dolore cronico per tanti anni così lo può eliminare la cosa bella del metodo di cese il mio metodo che deriva direttamente da los angeles da beverly hills da dottoressa lina brunini del grandissimo dottore michelangeli garai e che tu puoi aiutare anche i tuoi cari chi non vuole essere aiutato perché è pieno di sensi di colpa pieno di autocastigo ok un bacio un abbraccio e al prossimo video